Maria Pia, il tuo primo libro, L'ora dei racconti, a chi è dedicato? A tutti i bambini che sognano di diventare grandi, come ho messo sulla lucandina, e a tutti i grandi che hanno il desiderio di ritornare indietro, di ritornare bambini. Quindi diciamo un viaggio introspettivo? È un viaggio nel mondo della fantasia, delle emozioni, è un viaggio nella realtà, perché in questi racconti ci sono delle situazioni che i ragazzi vivono, che anche gli adulti vivono, e c'è qualcosa anche di magico, nel senso che c'è anche qualcuno che ti porta verso un cammino nuovo, verso una nuova speranza, non si è mai soli. Poi io dico che un libro è una cosa splendida, nel senso che è un amico che non ti lascia mai solo, che ti dà una ricchezza profonda dentro, che ti aiuta a ritrovare speranza, il sorriso, la forza, e poi dato che ho lavorato sempre con i ragazzini al catechismo, allora cosa succedeva? Che vedevo i bambini in difficoltà e dicevo, ma questi non leggono o leggono poco, perché se avessero un bel libro forse riuscirebbero anche a trovare delle risposte. E quindi dalle loro storie, dalle loro emozioni, dalle loro paure, mi è nata l'idea, l'idea di scrivere qualcosa e di proporlo.